Un'occasione di confronto territoriale tra le persone che lavorano su questi temi. Un'occasione di confronto territoriale tra le persone che lavorano su questi temi. Questo è sicuramente la prima provincia di Demoti di raggiungere nel prossimo anno quel 20% che è posto come obiettivo regionale per il rispetto locale dell'obiettivo. Grazie. Grazie.